Jim, perché no? Hanno ucciso mio fratello! Questo non è il meglio! Non dovranno più fare del male! Non è questo il sistema, credimi! Non sono esseri umani, bisogna distruggerli! Va a casa, Jim! Va a casa, ho detto! Va via presto, prima che si avvicinino! Va bene, signor Zellaby. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!